E seguiamo le sopranciglia verso destra e verso sinistra Lei ha i capelli molto lisci di suo Ciao ragazzi Grazie di essere qui con noi oggi Oggi farò un massaggio alla Carly Ma la testa ha un po' coccole al viso queste cose qui Le spazzolano un po' i capelli ad usare il bagaglio che fa il massaggio alla testa In generale andremo a fare un rilassamento totale Quindi spero davvero che il video vi rilasserà È la prima tipologia di video che faccio così Con anche la modella rivolta verso la telecamera Quindi spero vi piacere anche vedere la relax sul suo viso Ok, allora Ma le orecchie fanno un po' di rumore Allora Partiamo con un po' di semplicemente carezze generali Io adoro quando c'è andato ai generali grattini in questa parte Proprio l'attaccatura dei capelli Qui Più anche qui Qui E Lo so perché si è così rilassante questa parte Però ovviamente è rilassante Partiamo con i pennelli Partiamo con il pennello a ventaglio E vado Prima nel lato sinistro E faccio dei movimenti che vanno dall'interno verso le radici E ancora torno a giù E vado pian piano sempre più verso l'interno Anche la, come si chiama, jawline, non mi viene da dire La linea della mandibola Andiamo col pennello qui Il visual trick per me è pazzesco qui E pian piano anche il mento Anche il mento secondo me è una zona molto particolarmente rilassante E faccio sempre dei movimenti che portano i capelli che portano i capelli Ok Porto sempre dalla fronte E poi pian piano scendo Sei rilassata? Molto Andiamo sul naso Andiamo sul naso Andiamo sul naso Verso Verso destra Verso destra E verso sinistra Verso destra E verso sinistra E poi andiamo sulla fronte E poi andiamo sulla fronte E di nuovo sui lati Vanno un po' anche sulle orecchie Vanno un po' anche sulle orecchie E adesso facciamo le due parti del viso Dall'alto verso il basso E poi dal basso verso l'alto E vanno anche un po' sul collo Cioè sotto al viso E di nuovo alla torta dell'alto E poi applichiamo ai brazzi E poi la mappa E allora applichiamo ai brazzi E poi magari ancora andiamo alla 연i E noi behindli che dall'altra parte un po' di cipra, non per tutto poi andiamo anche adesso andiamo a pettinare un po' le sopracciglia che sono già più pettinate di loro e poi andiamo a pettinare un po' di cipra e poi andiamo a pettinare un po' di cipra e anche col pannello piccolo tipo mettiamo illuminante punta del naso sicuro un po' sul labbro un po' sul mento ora passiamo a una cosa super bella super brevitosa non vedeva l'ora lei che è come si chiama il massaggio a testa? si questo coso qua che è tipo la cosa più semplice del mondo ma la cosa più geniale e andiamo a fare un bel massaggio alla testa la testa perché prende più posti insieme è sottile però prende tanti posti insieme che ce lo scoppio di brevitine o e il con 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 Grazie. Adesso andiamo un po' anche a pettinare i capelli, spazzolarli, quasi la spazzola più piccola. Tra l'altro i di farlo sono bellissimi, così si sente. Ha i capelli molto lisci di suo, molto sani quindi... ... guarda sottra che ti ho sacco di capelli sì, la vero Grazie. Mi ricordo che all'università c'era una mia amica a cui piacevano certo piedamati i trattini e a volte quando ero seduta dietro di lei nei banchi prendevo una matita e gliela passavo proprio fra i capelli anche dietro. Ancora così, l'impensiva. Adesso finiamo con un massaggio. Finiamo con un massaggio un po' alle spalle. Generale. Ah, una cosa volevo fare. Ve ne avevo già parlato in un video vecchissimo paio di anni fa. Da piccole, le mie amiche facevamo il gioco dell'uovo che si rompe. Tu lo conosci? No, non è famoso. Si rompe e poi cade. Ancora si rompe e poi cade. Ok, facciamo due o tre fotture di uova e poi direi che vi mando una buonanotte. non sono abituata a ricevere massaggi. Eh, lo so perché lei li fa veramente sempre. Io negli ultimi mesi ho sempre massaggiato la mia collega e carissima amica. Quando era stressata dovevo massaggiarle il collo. Come diventare la collega preferita delle persone, certo? Anche la sorella mi vince stamattina. Si. C'è sua sorella che è una mia amica che si lamenta sempre, tipo ogni volta. Non so, lei è super delicata e la sorella è lì. Siamo arrivati all'alto. Anche. Anche facciamo l'uovo. E si espande. Si espande il collo e le spalle. E un'altra volta rompiamo l'uovo. e si espalde ancora ancora molto bene io spero davvero che questo video vi sia piaciuto vi abbia rilassato ditemi se ne vorreste altri datemi un po' di spunti di te per altri video così e io penso proprio penso proprio se aggiuntarlo orati a passare le noti e augurarvi 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 buona notte buona notte buona notte grazie grazie